Le voci di una possibile crisi tra Vanda Nara e Mauro Icardi sembrano tornare prepotentemente alla ribalta, facendo parlare di sé nelle cronache di gossip. Le indiscrezioni sul presunto tradimento della coppia si diffondono nuovamente, portando con sé un'aura di mistero e incertezza sul destino della loro relazione. Il ritorno delle tensioni, Vanda Nara e Mauro Icardi, al centro del gossip. Le voci riguardanti una presunta crisi tra Vanda Nara e Mauro Icardi sono state nuovamente alimentate anche da Alessandro Rosica, noto esperto di gossip e investigatore social, che tramite un post su Instagram ha gettato ulteriore benzina sul fuoco. Le indiscrezioni parlano di un ennesimo tradimento all'orizzonte, con conseguenze che potrebbero portare la coppia a intraprendere azioni legali. Lo scenario dipinto da Rosica non lascia spazio a interpretazioni vaghe, tradimenti, richieste di divorzio e un matrimonio apparentemente destinato al naufragio. La storia burrascosa tra la gente e il calciatore ha attirato riflettori sinistro, regalando al pubblico numerosi colpi di scena che hanno alimentato le speculazioni sul loro rapporto. Smentite indizi. La verità sulla crisi di Vanda Nara e Mauro Icardi. Nonostante le smentite categoriche da parte dei legali della coppia, i segnali provenienti dai social sembrano dipingere un quadro diverso. Mentre Vanda Nara appare sulla scena con i figli, il mistero attorno alla presenza di Mauro Icardi si infittisce. Tuttavia, un recente viaggio della coppia a Istanbul e la partecipazione a eventi pubblici insieme sembrano contraddire le voci sulla rottura imminente. La partecipazione congiunta a eventi mondani e la dimostrazione di unità potrebbero rafforzare l'ipotesi che, nonostante le tempeste, la coppia stia cercando di resistere alle pressioni esterne per preservare il loro legame. Il futuro incerto di Vanda Nara e Mauro Icardi. Chi vincerà la sfida dell'amore? I destini incrociati di Vanda Nara e Mauro Icardi continuano a tenere banco nelle cronache di gossip, alimentando speculazioni e dibattiti sulla solidità del loro legame. Mentre le voci sulla crisi si fanno sempre più insistenti, le apparenze potrebbero nascondere verità nascoste e sentimenti contrastanti. Tra tradimenti, smentite ufficiali e gesti pubblici di affetto, il futuro della coppia resta avvolto nel mistero, lasciando spazio a ipotesi e supposizioni sul destino di uno dei binomi più discussi e amati dal pubblico. Chi vincerà la sfida dell'amore tra Vanda Nara e Mauro Icardi? Solo il tempo e i fatti potranno rispondere a questa domanda, mentre il pubblico resta in attesa di nuovi sviluppi sulla turbolenta storia che tiene col fiato sospeso gli appassionati di gossip. Approfondimenti Vanda Nara Vanda Nara è un personaggio televisivo e agente di giocatori di calcio, nota per essere la moglie dell'attaccante argentino Mauro Icardi. È diventata famosa anche per la sua presenza nei media e per il suo coinvolgimento nella gestione della carriera sportiva del marito. Nara è un volto noto nel mondo dello spettacolo e del gossip, soggetto a frequenti speculazioni sui dettagli della sua vita privata. Mauro Icardi Mauro Icardi è un calciatore argentino di fama internazionale, noto per le sue prestazioni con squadre di alto livello come l'Inter e il Paris Saint-Germain. Oltre alle sue abilità calcistiche, è spesso al centro dell'attenzione per le vicende personali, in particolare legate alla sua relazione con Vanda Nara e agli eventuali scandali che coinvolgono la coppia. Alessandro Rosica Alessandro Rosica è un noto esperto di gossip e investigatore social, impegnato nel commentare e analizzare le vicende delle celebrità e delle personalità pubbliche. Le sue opinioni e le sue speculazioni contribuiscono ad alimentare le storie che circolano nel mondo del gossip e ad accendere ulteriormente l'interesse del pubblico. Istanbul Istanbul è una delle città più grandi e significative della Turchia, situata su entrambe le sponde dello stretto del Bosporo. Con una storia ricca di eventi culturali e politici, Istanbul è un crocevia tra Oriente e Occidente, noto per i suoi monumenti storici, le sue influenze multiculturali e la vivace vita urbana. Il viaggio di Vanda Nara e Mauro Icardi a Istanbul potrebbe avere un significato simbolico o essere una riflessione sul loro rapporto. Questo articolo si concentra sul presunto tradimento e sulle difficoltà nella relazione tra Vanda Nara e Mauro Icardi, offrendo una panoramica delle voci e delle speculazioni che circondano la coppia. Le smentite ufficiali contrastano con i segnali provenienti dai social e dagli eventi pubblici, creando un clima di incertezza sulla stabilità della loro unione. La storia turbolenta della coppia ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, che rimane in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda gossip.